Benvenuti su Gossip Mania TV. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis divorzio ufficiale, purtroppo abbiamo deciso. Prima di proseguire, se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità, ti chiediamo gentilmente di iscriverti al canale ed attivare la campanellina. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono separati ormai da diversi mesi, ma nuove indiscrezioni rivelano che entro la fine del mese arriverà l'ufficializzazione legale del loro divorzio. Questo passaggio, naturalmente obbligatorio, sancirà definitivamente la separazione voluta principalmente da Sonia, come entrambi hanno più volte chiarito. Nonostante la fine del matrimonio, il divorzio non intaccherà l'affetto e il rispetto che i due continuano a nutrire l'uno per l'altro. Nel frattempo, Sonia Bruganelli ha rilasciato una commovente intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato apertamente del suo rapporto con Paolo e della malattia della figlia Silvia. Secondo quanto riportato dal noto settimanale, chi, alla fine del mese il divorzio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis diventerà ufficialmente legale. Una separazione consensuale che pone fine ufficialmente al loro matrimonio, ma non certo al loro affetto, riferisce il settimanale. Sonia ha spiegato che la decisione di separarsi è stata principalmente sua, mentre Paolo Bonolis ha accettato la sua scelta per il bene della famiglia. Nonostante la separazione, entrambi continuano a mantenere un forte affetto e rispetto reciproco. Sonia Bruganelli ha spiegato che la decisione di separarsi è stata motivata dalla sua crescita personale. È stata una decisione che ho voluto prendere per seguire il mio percorso di crescita personale, ha dichiarato. Ma andarsene non vuol dire abbandonare, significa anche lasciare l'altro libero di essere felice senza di te. Non ci sono stati tradimenti, capisco che per qualcuno avremmo potuto continuare a stare insieme. Ho conosciuto Paolo quando avevo 23 anni e siamo stati insieme per 26 anni, le persone cambiano e io sono cambiata molto. Durante l'intervista, Sonia ha anche parlato della difficile esperienza con la malattia della figlia Silvia. Ho sempre vissuto la malattia di Silvia come un'ingiustizia. Ho scoperto che era cardiopatica all'ottavo mese di gravidanza, proprio quando si dovrebbe preparare con gioia l'arrivo di un figlio, ha raccontato Sonia. I medici mi dissero chiaramente che se non si fosse operata subito dopo la nascita, non sarebbe sopravvissuta. Silvia è nata il 23 dicembre 2002 e subito è stata operata al cuore. Purtroppo, i danni dovuti all'ipossia postoperatoria sono stati scoperti solo una settimana dopo. Io avevo già notato che qualcosa non andava, ma tutti cercavano di rassicurarmi. Essere madre non è stato semplice per Sonia, ma ha affrontato le difficoltà con coraggio e onestà. Ho accettato di essere una madre imperfetta, e va bene così. Silvia mi ha sempre amata, anche quando io non riuscivo a voler bene a me stessa e mi sentivo responsabile delle sue limitazioni, che i suoi fratelli non avevano. La storia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, purtroppo, si avvia alla conclusione legale con il divorzio ufficiale, ma il loro legame di affetto e rispetto rimane intatto. Sonia ha condiviso con il pubblico le sue lotte personali e familiari, mostrando una straordinaria forza e determinazione. La sua sincerità e il suo coraggio nell'affrontare le difficoltà della vita hanno toccato profondamente molti dei loro fan. Lascia un commento alla fine del video e seguici per gli aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi. A presto con un nuovo video. Ci vediamo al prossimo Gossip.